Oggi ti mostro come preparare la Linzer Torte Verso nel frullatore il burro e lo zucchero di canna Poi tutti gli ingredienti secchi, cioè le farine, il cacao, il lievito, la cannella, i chiodi del garofano, il polvere e il pizzico di sale Imposto energicamente con le mani Fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo Che ripongo in frigorifero per due ore Rivesto una tortiera con la carta forno, verso i tre quarti dell'impasto e formo la base Aggiungo la marmellata e la distribuisco uniformemente Copro la superficie con il restante impasto sbriciolato Cuocio nel forno per riscaldato a 180 gradi per 35 minuti Lo so, viene fame solo a guardarla Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto Venimi a trovare sul mio blog E se la ricetta ti è piaciuta condividela sui social A presto con un nuovo video